Sì, salutiamo con Fernando il sapore di sale Paola vieni qua che facciamo ringraziamenti dopo Il sapore di sale, quella è già partita No, dopo, fai partire il sapore di sale Cinzia Baglioni, te lo prometto, il 25 di agosto lo prepariamo La cosa di Baglioni? Sapore di sale, sapore di un mare Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra Quando esci dall'acqua e ti viene in grado Dicino a me, dicino a me Sapore di sale, sapore di un mare Un gusto un po' amaro, di cose perdute Di cose lasciate, lontano da me Che del mondo è diverso, diverso da qui E il tempo è nei giorni, che passano qui E lasciano in bocca, il gusto del sale E tu fai nell'acqua, e mi lasci guardare E rimando da solo, nella sabbia del sole E tu fai nel vicino, e ti lasci capire Possimi la sabbia, e le mie braccia E mentre ti bacio, sapore di sale Sapore di mare, sapore di te E il tempo è nei giorni Che passano in grado, e mi lasciano in bocca E il gusto del sale E tu fai nell'acqua, e mi lasci guardare E tu fai nell'acqua, e mi lasci guardare E tu fai nell'acqua, e mi lasci guardare E mi lasci guardare Sapore di sale Sapore di mare Sapore di te Bravo! Bravo! Bravissimo! Grazie, buonanotte a tutti! No, no, stai ferma lì La presentatrice ce la faccio io? E che la leggo? No, se mi permettete le ultime due cose Volevamo ringraziare Il comune di Borghetto Santo Spirito Che ci ha dato la possibilità di essere qua Volevamo ringraziare il CIV Centro integrato di via Del centro storico Via Giardini, via Dante Che è un'associazione commercianti Mettiamolo così per farla semplice Che hanno permesso che questa manifestazione Si possa fare qui questa sera Un applauso a Paola Parinello Quarta da noi di Sombra Un applauso a Cinzia Auditore Silvia Palazzini Ospite d'enore Fernando E Serafina Serafina Taffano Serafina Taffano Bravissima presentatrice Un ringraziamento ancora alla Floricultura Ottonello Che c'è gentilmente Floricultura Ottonello Bruno Basso e Index Che hanno sostenuto e ha fatto sì Che questa manifestazione potesse essere Un applauso a Luca Un applauso a Luca Speriamo di aver potuto passare una bella serata Ci siamo riuscite E la signora mi dice sì È l'unica che rimasta di seduta Ma si mostra più Grazie 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 a tutti Buonanotte Buonanotte a tutti Al 25 agosto Grazie 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 Grazie